Benvenuti ragazzi a questo nuovo video, quest'oggi sono in compagnia di un mio amico di nome Calogero E' sempre presente Calogero E praticamente questo video comporterà una challenge, vedete sono su una ciclette Ai anni morti, iniziamo bene il video Sono su una ciclette e il mio amico Calogero mi andrà a dire 30 cognomi dei giuratori della serie A Qualsiasi squadra, non importa quale, io dovrò indovinare il numero di maglia Ogni numero sbagliato, ogni due numeri sbagliati, scusate, comporterà un aumento della pesantezza della pedalata della ciclette Quindi ragazzi, più sbaglio, più si suda e più si stanca Quindi basta parlerci in chiacchiere e iniziamo subito E Calogero farà di tutto per farlo sbagliare Maledetto Maledetto Bene Piero, inizia a pedalare Allora Piero, il primo numero che mi devi dire è della Juventus Iniziamo facile Iniziamo un po' facile Il numero di Licksteiner 26 Perfetto Piero, il primo è esatto Poi andiamo Milano che Licksteiner Vediamo adesso dell'Inter Piero Aia Attenzione, attenzione Il numero di Melo Felipe Melo 5 Esatto Piero, siamo già a 2 Attenzione, adesso devo fare una cosa più difficile No, mo' inizia Crotone Piero, il numero del Torino Hart 21 Esatto Dai cazzo Che puto è andato al Torino perché ha perso una scommessa Perché non ha senso andare dal City al Torino Vabbè, queste sono cose mie Poi vediamo il numero del Cagliari Capuano Attenzione È già sbaglio È il numero 24 Piero Come fai a sbagliare? Sì, Capuano Dove giù? Vediamo, vediamo Dell'Empoli, Piero Pucciarelli È già il numero Il Pucciarelli è l'attaccante, se non sbaglio Il Caloggio l'ha scelto bene È a 2 cifre? Sì 25 No, ho sbagliato, il 20 Eh, siamo 30 Siamo già due errori, Piero, eh Sentite il clac? Non so se si è sentito, spero di sì Ma adesso si inizia a faticare, eh Adesso la squadra che vuol dire il Crotone No, non riconosco Il numero di Rosi 5? No, assolutamente Un numero in meno del mio progetto è 22 22 E quindi siamo a 3 No, ma adesso vuoi così più facile Adesso è la più facile Sulla Roma Invece ti metto Sì, la Roma Vediamo Il numero di Lobont Allora Allora Come è il portiere che sbaglia il Lobont? Doppia cifra pure lui, no? Eh, quando ti posso aiutare? Ti doverete, è difficile la vita, no? Calogero vuole mettere sempre difficoltà Qual è il tuo calogero? Beh Mettiamo subito il X Perché è già sbagliato Il numero 18 Quindi siamo a 4 errori Aumenta di un'altra velocità Cielo, 8 E siete, lui stoppa e fa sentire il rumore Poi vediamo Dell'Inter L'Inter dovrebbe essere un po' più semplice Di Gabigol Ebbè È appena arrivato 96 Dai Gabigol Ci sta E siamo Allora Ne avevo dette 8 Vediamo Vediamo Andiamo a 22 Del Chievo No, che è Chievo? Il numero di cacciatore No L'ignorante della donna Il 96 Che cos'è? Assolutamente Un numero è azzeccato In realtà è il 29 Quindi un altro sbaglio Siamo a 5 capi Io anche la serie A li voglio bene Il numero Questo te lo faccio molto diverso Il numero dell'Inter Cacca 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 No, che buon bidone Che è 5 Come fai a sbagliare? Sai che il nome ma non so il nome È il numero 13 Piero È il numero 13 Quindi sono 1, 2, 3, 4, 6 Sono 6 errori Aumenta Sì ragazzi Così non si va Ma dove stiamo? Vero qua Stai a 10 Stiamo a 10 Non so quant'anni Ragazzi Non so quant'anni Poi vediamo Il numero Vediamo il numero Dell'Empoli Mari lungo Ma chi sono questi giocatori? 15 Ci fai Assolutamente No È il numero 89 E siamo a 7 sbagliate Poi vediamo Vediamo Della Sampdoria Dodo 5 Ah Finalmente Eh sì Se mi metti i giocatori che conosco Siamo tornati Io non so che tu li conosci Allora A sto punto Il tempo è sul difficile Del crotone Di Crisetic 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 La velocità Che abbiamo fatto 8 sbagli Sì 8 sbagli E' fatto Grazie Colpo di classe Ah 6 7 8 siamo esattamente a 9 Sì la prossima difficoltà Bisogna chiamare il 118 Vediamo Adesso è una persona che ci ha salvato tutti Ha salvato tutti quanti Il numero della Roma Jesus 3 Ah è giusto Tu non puoi sbagliare il nostro salvatore Quelli freschi di trasferimento non li ricordo Vediamo 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 Va bene Te ne faccio azzeccare una Il numero della Roma Totti Ma non lo so Non lo so il pubone che tra un po' fa anche 40 anni Quindi auguro il pubone 10 Assolutamente no è sbagliato il numero È giusto Ma io te lo segno sbagliato No te lo segno è giusto vai Allora Piero siamo arrivati a 16 Il 17esimo È volta sfiga lo sbaglio Vediamo vediamo Dell'Empoli Zambelli Io non credo neanche si stesse in giocatori alle gente Quando ho fatto le liste ho proprio incollato gli elenchi Non è che li conosco tutti Che ne so 55 Assolutamente no È il numero 2 Siamo a 10 errori Quindi aumenti ancora Allora vediamo Allora vediamo Del Cagliari Paduin Il talismano Venti Non si può parlare Esatto Il palo Poi vediamo Vediamo Ti dico sempre i giocatori della Juventus Però questo è dalla San Codoia Quagliarella Non so se si è riportato dalla Juventus Numero penso sia 27 Esatto Si è riportato Un maledetto E siamo a 19 Vediamo Vediamo Pure questo qua Il nome particolare È sempre del Crotone Visto che è una squadra che mi piace Tu cazzi il Crotone Di Chris e Tig Di nuovo L'hai già detto Chris e Tig Te lo ricordi? No Ecco No Ti metto come orrore Te lo metto come orrore Venti E siamo a 11 Prego a vedere se sei stato attento E io ti Caloggio 8 Caloggio 8 Ormai ho dimenticato Cancellato Ormai adesso Caloggio ti mette sempre in difficoltà Vediamo Ma anche perché Che è il Crotone Del Sassuolo Il numero di Iemmello Iemmello Quando è bello Numero 9 Esatto Esatto Siamo al 21 Piedi Allora vediamo Il numero di Una persona Che è il controllo di te In pratica Dell'Atalanta Grassi E anche il numero È bello pieno 88 Esatto Perché Allora Adesso mi dividi Te l'ho fatta zeccare Perché è questa frase Che ti ho detto Allora ti do lo sbaglio Ti do lo sbaglio Ti do lo sbaglio E siamo a 12 A me è il tapiero Perché io non ti devo aiutare Ti devo aiutare Ma nel frattempo Non ti devo fare indovinare Quindi vediamo Della Roma L'ultimo scatto Posso dare Della Roma Salah O Salah Salah Della Roma Novezeco Salah 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 dobbiamo vedere sempre sul crotone. Di Martella. Di Martella? Chi è di Martella? Se voi non gioca te li sta inventando. Non lo so. Non lo so. È il numero 87 e quindi siamo a 13. Vediamo. Della Sampdoria, dimmi adesso, di Tozzo. Posso? 15, vado a 15, però poi un 15 uscirà. Assolutamente no. Ho capito già cosa devo fare, dai. È il 92, quindi siamo a 14. Ragazzi, non per dire, c'è una X della serie, non lo mettere se no ti viene l'infarto. Io l'ho messo lì. Che, altre due, eh. Altre due abbiamo finito. Il numero del Cagliari di Gennaro. 8. Ah, bene. Adesso l'ultimo devo cercare proprio il più difficile. Il più difficile. Vediamo. Sempre del crotone. C'è Chirini. Io il crotone, io andrò il crotone adesso. Andrò a mettere una bomba nella sala dove stampano le maglie. 44. Assolutamente no. 17. Ma a sto punto non vale la pena. Perché su 30 tentativi hai fatto 15 e fuori. Conosci metà dei giocatori della serie A. Ragazzi. Caloglio dice che fai schifo. Anzi, 15 su 15 non è male. Provateci voi a fare una cosa del genere. La verità massima. Allora ragazzi, questo video ve lo monto direttamente dall'ospedale della mia città. Però ce l'ho fatta 15 su 15. Non è un risultato brutto, onestamente. Credevo di fare peggio, però mi sa che devo ripassarmi il crotone. Ringraziamo quindi il nostro amico Calogero, in realtà. Calogero. Sempre presente e baciamo le mamme. Che in realtà si chiama Nickelplay. C'è un canale in cui vi metto un bel link in descrizione del suo canale. C'è anche un negozio dove io andrò a mettere la bomba questa sera, ma l'uno lo sa. E quindi niente ragazzi. Spero il video vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Mettere like se il video vi è piaciuto. Dislike se non vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video.